Musica Benvenuti allo spazio delle previsioni meteo per il fine settimana a cura degli studenti di studio tecnico, trasporti e logistica Leonardo da Vinci grazie alla supervisione didattica del professor Gennaro Piccerillo e la realizzazione tecnica del professor Giacomo Barbera Complice una struttura di relativa bassa pressione che interesserà prevalentemente il nord della nostra penisola questo weekend sarà caratterizzato da una instabilità atmosferica tale sistema depressionario sarà accompagnato a sua volta da condizioni di elevata umidità in particolare sabato 5 dicembre la città di Parma sarà contraddistinta da cielo coperto accompagnato da pioggi persistenti nel corso della giornata le temperature uscilleranno tra i 3 e i 5 gradi centigradi i venti saranno di debole intensità con spiccata componente meridionale in particolare provenienti da sud per la giornata di domenica 6 dicembre i residui della perturbazione che hanno interessato la nostra città comporteranno in mattinata cielo coperto con probabili precipitazioni sono invece previsti dei miglioramenti a partire dalle prime ore del pomeriggio non è da escludere la formazione di nebbia temperature stabili ed in linea con la giornata di sabato la circolazione al suolo caratterizzata da venti occidentali tutto sommato in debole intensità è tutto per questo appuntamento grazie per l'attenzione grazie grazie grazie